Il mio nome è Claudio Lenotti e rappresento oggi la quarta generazione della famiglia Lenotti nella produzione di vini di qualità del Lago di Garda. Territorio e natura sono le basi sulle quali da sempre abbiamo costruito la qualità dei nostri vini. Il territorio è quello del Lago di Garda, un'area unica per caratteristiche morfologiche e climatiche. Qui crescono vigneti che producono uve di alta qualità che ci permettono di offrire famosi vini come il Bardolino Classico, il Chiaretto Classico, il Custoza e tanti altri fino all'Amarone. Nelle nostre botti i vini più prestigiosi come il Ripasso e l'Amarone e i nostri speciali Massimo e le Olle invecchiano con calma e sotto il nostro continuo controllo. L'esperienza qui conta moltissimo e non abbiamo fretta. E ora l'ultimo segreto. Da sempre abbiamo cercato di produrre vini di qualità che siano anche salubri e naturali, riducendo al massimo i solfiti attraverso l'eliminazione del contatto con l'ossigeno nel corso della produzione. I nostri vini hanno infatti successo perché sono sempre freschi e facili da bere e piacciono perché sono sempre naturali.